Le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Francesco e per tutti i pastori, il Signore Gesù che li ha scelti, li assista con il suo spirito e li conservi come guide del popolo santo di Dio. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'Annunzio a Maria ed è la concepita l'opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Avem, piena di grazia. Avem, Vergine Maria. Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto di Getsemani. Pater nostre, ques in cielis, santificetur nomen Tum, adveni ad renium Tum, fiat volontas Tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut e nos limitibus debitoribus nostris, ete nos inducas in tentazione, se libera nostra mano. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tui, mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. amén. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria regina della pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi, prega per noi. peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, 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 prega per Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero del dolore, contempliamo l'incoronazione di Gesù con una corona di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, signora della pace, prega per noi, prega per noi. Polacco, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, Nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita di Gesù al Calvario con il peso della croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo reno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco, bendita sois vós entre le donne, e bendito è il frutto del vostro ventre, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, is the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee, blessed are thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia, il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dolce, e spes nostra salve, a te clamamus, e insunes fili e ve, a te suspiramus, gementes e flentes, in a lacrimarum vale. ella ergo, ad vocata nostra, e los tuos misericordes oculos, ad nos converte, e in a lacrimarum, e non es un benedictum fruttum, ventris tui, Nobis posto che exili uno stende, o clemens, o pia, o dulcis, o clemens, o clemens, o clemens, o clemens. Prega per noi. Madre della Divina Grazia. Madre della Speranza. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Immacolata. Madre degna d'Amore. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consilio. Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza. Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora Consacrata a Dio, Rosa Mestica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza. Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Reggina degli Angeli, Reggina dei Patriarchi, Reggina dei Profeti, Reggina degli Apostoli, Reggina dei Martiri, Reggina dei Confessori della Fede, Reggina delle Vergine, Reggina di tutti i Santi, Reggina concepita senza peccato. regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore, abbi pietà di noi. A noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo, preghiamo. O Dio, il Tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la Sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concede di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le soffliche di noi, che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Pagina 9 Preghiera in Santa Casa di Papa Francesco Maria, Madre della Chiesa, che in questa Santa Casa, con il Tuo Sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il Tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della Tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù, lo Spirito della verità e dell'amore, e portaci nel cuore del Padre. Ameno Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Ameno L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Ameno Scenda la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie, sui giovani e sulle persone ammalate, perché per l'intercessione della Beata Vergine Maria sappiamo anche noi fare sempre la volontà del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, Figlio e Spirito Santo. Ameno Benediciamo il Signore. Prendiamo grazie a Dio. E il tuo Sì che ci apre il cuore, Santa Maria pregato per noi. E il tuo Sì nella Santa Casa, che ci protegge e consola. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.